La nuova stagione dell'Amescuola Basket Arezzo riparte con la campagna Abbonamenti. Da mercoledì 10 luglio tutti i sostenitori Amaranto potranno infatti assicurarsi un posto al Palasport Estra per il campionato di Serie C Gold 2019-2020. Tante le sfide da non perdersi in questa nuova avventura dove gli Amaranto potranno confrontarsi con società che hanno fatto la storia della palla canestro italiana. Sono previsti anche due derby a retini contro la Fides Montevarchi e contro la Synergy Valdarno. Gli abbonamenti hanno un costo di 60 euro e saranno validi per tutte le 15 gare interne di stagione regolare e sarà possibile sottoscriverli nella prima fase fino al 19 luglio presso la segreteria SBA da lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30. Una seconda fase di apertura della campagna Abbonamenti è prevista poi da lunedì 26 agosto.